Ti confronti in studio con una persona, impari tanto di quella persona ed è bellissimo umanamente lo scambio che succede da musica a musica e per me è stato un onore poter passare del tempo in studio con Dyer, un applauso a questa persona. Grazie, grazie. E insieme è successo questo, è successo tutto questo, quindi grazie. Grazie a te, è stato bellissimo e complimenti a te per tutto questo. Sono veramente onorato di stare con te sul palco. Grazie, grazie Angelina!